Ove, tunnel su Nilden, scambia con l'Exempli, ancora Ove, va a passare, Ove ci riesce, è in area di rigore, il cross sul secondo pallo, il salvataggio, poi Giuliano con la testa, 1-0 Roma, il gol del capitano, il gol della 10, il vantaggio della squadra di Spugna, 1-0 al 27esimo, il primo gol del campionato, è il gol in casa della Juventus, indica il tricolore, qui Giuliano, 1-0 per la Roma. Lo scambio tra Di Guglielmo e Ove, che passa più volte, poi la cross sul secondo pallo, si alza un campanile, testa a testa, dentro l'area bianconera.